Dalla Sala Sud di Terrazza Colombo, Primo Canale presenta Buonasera, buonasera, benvenuti a questa dodicesima puntata di Tiziana e Cirone una puntata a distanza, Cirone, è così? Ma un puntato a distanza, come la didattica a distanza, buonasera Tiziana, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti buonasera ai nostri telespettatori, io ritornerò operativo, immagino questo venerdì quando avrò un segnale di negatività, però può iniziare una puntata che riteniamo sia molto molto importante io sono qua per ricevere i messaggi dei telespettatori, per sentire anche le vostre telefonate e per dialogare con voi, con questo studio meraviglioso che hai preparato Tiziana questa sera vuoi raccontare tu di cosa parleremo? Questa sera abbiamo deciso di raccontare le voci della guerra, le storie, i racconti di chi è scappato dall'Ucraina ed è arrivato in Liguria, è arrivato a Genova, ma anche le storie invece di chi è rimasto e di chi è ancora là ma anche una storia di solidarietà, ce ne sono tantissime nella nostra regione e l'ultima in ordine di tempo è quella che racconteremo un po' qui dall'Italia e un po' dall'Ucraina della consegna di un'ambulanza. Intanto grazie a chi ha accettato di venire a raccontare, di raccontarsi useremo soprattutto il nostro caro padre Vitali Tarassego che è il cappellano della comunità ucraina che ci aiuterà anche a tradurre. Partiamo proprio da lei intanto, padre Vitali qual è la situazione? Tanti sono i profughi che sono già arrivati nella nostra regione come si sta andando avanti nell'accoglienza? Buonasera a tutti, sia allorato a Gesù Cristo perché veramente la gloria di Dio è così grande che ha unito tante persone che sono mossi con questi sentimenti sia religiosi che anche ci sono le persone che hanno dichiarato anche la loro posizione religiosa ma comunque sono tutti uniti verso una persona, un popolo che ha bisogno del sostegno. Io sono un primo testimone come tutti voi che riceve queste storie di quali oggi ricorderemo le storie veramente sono molto diverse come ognuno di noi è diverso ma le storie che hanno solo unico obiettivo di desiderare la pace come le persone che arrivano qua cercano alloggio, cercano una sistemazione ma prima di tutto guardano il cielo che non cade niente qualcosa da sopra. Perciò ringrazio molto a tutti voi volontari che fate questo servizio molto importante e date non solo le cose materiali ma anche il cuore come sentiremo oggi di questa bellissima storia della scuola di Busala che manda veramente un pezzo del loro cuore alle persone che infatti hanno ricevuto già questa ambulanza di quale parleremo. Ieri è arrivata una famiglia, anzi due famiglie da Mariupoli sono stato molto colpito anche dal fatto che il sindaco di Savona li ha incontrati e ha voluto vedere di persona queste persone e siccome Savona e Mariupoli sono gemelate e così lui come la prima persona della città ha voluto incontrare e poi il rappresentante di questo gruppo era una donna, una nonna, una signora anziana che infatti ha precisato noi non abbiamo scappato dal nostro paese perché non vogliamo sentirci traditori della nostra terra ma ho voluto salvare la mia famiglia, i ragazzi cioè in qualche modo potrei vedere in questa donna anche tutto il popolo che veramente vuole salvare e mettere in salvo i propri figli come ha detto giustamente lei, il futuro della nostra nazione. Magari l'ascolteremo anche in una prossima puntata saluto e ringrazio anche Oleg Sayedak chiedo scusa a tutti per la pronuncia dei nomi, abbiate pazienza mi aiuto con il Google traduttore per scrivere ma la pronuncia non sono ancora riuscita perché lei fa parte di questo convoglio che è appena tornato e che ha portato nella nostra città oltre 80 profughi una sintesi poi ci ritorneremo Sì, abbiamo fatto quello che abbiamo sognato da quando è iniziata la guerra e grazie ai ragazzi di misericordia siamo riusciti a fare e poi la fondazione Pallavicini che hanno offerto quelli due pullman con il quale abbiamo portato 85-83 persone E questa è insomma la sua testimonianza tra poco la sentiremo Allora stiamo cercando di collegarci con Kiev ma non è molto semplice Allora andiamo avanti intanto vediamo di ottimizzare il collegamento proprio con Kiev e partiamo con la prima testimonianza Padre Vitali con Elena Duninic che arriva da Irpin che è una delle città più colpite alle porte di Kiev e che tra l'altro nelle ultime ore è stata liberata ha annunciato il sindaco Io sono da Irpinia e noi sappiamo che Irpinia è stata liberata e la vostra esperienza Da, il città di Irpinia ha preso in prima linea proprio tutta quella armata russa e sappiamo che è stata liberata ma come dice lei non tutta la città è stata liberata e speriamo che sia liberata veramente il più presto possibile in modo completo Come è iniziata lì la guerra? La guerra è iniziata La guerra è iniziata La guerra è iniziata il 24 febbraio a 5 uomini quindi eravamo sentiti Il 24 febbraio alle 5 del mattino ha sentito le sirene ha sentito esplosioni La gente prima non ha capito cosa è successo io ho avuto il televisor nel televisor non parlavano poi è arrivato il Facebook e qui si diceva che si sentono esplosioni in tutte le Ucraini in tutti i cittadini quando ha sentito questo rumore ha acceso la tv cercando di trovare qualche informazione ma non è riuscita per niente così ha preso il cellulare ha guardato Facebook e così da Facebook ha ricevuto le notizie che è cominciata la guerra in tutta l'Ucraina alle 6 del mattino ha guardato dalla finestra e ha visto le persone che prendendo le macchine mettevano in salvo i loro figli e cercavano di scappare dalla città lei è rimasta in città per tre giorni cercando di capire come può muoversi dove deve andare infatti in frattempo dopo tre giorni sono cominciati i bombardamenti e poi anche la guerra in modo molto aggressivo allora ha deciso di raggiungere il suo fratello in Getomer in una città in Ucraina centrale però non poteva prendere qualunque strada perché doveva evitare i combattimenti che erano già attivi come è scappata e così concludiamo il suo racconto padre Vitali perché noi abbiamo nella nostra immagine il ponte di Irpin con tutte quelle persone sotto che cercavano il rifugio cercavano di scappare come è riuscita lei a scappare? Il ponte che va verso Chievo, invece lei andava in direzione diversa, verso Getomer. Ed è arrivata a Genova. E chi è possibile che vi è arrivata a Genova? Io ho arrivato prima a Polonia, in Polonia ho conosciuto con i miei nuovi amici e noi siamo arrivati a Genova. È riuscita a raggiungere la Polonia e poi da Polonia ha trovato i contatti per venire qui a Genova, facendo tutto questo viaggio lungo. Tutto questo lungo viaggio è un viaggio anche evidentemente pericoloso. C'è un messaggio, noi questa sera raccontiamo le storie perché vogliamo che anche i nostri telespettatori ascoltino dalla voce diretta di chi è scappato dalla guerra che cosa significa. C'è un messaggio che vuole lasciare, che vuole dire ai nostri telespettatori? Vi chiederlevi di lasciare per tutti i nostri rispettatori, soprattutto per la persona che ha sentito la sua guerra. Io voglio che le persone capivano, quando viveremo, non credo che la sua guerra può essere, ma che le persone capivano che questa rispettura davvero funziona e che tutti i nostri rispettatori bisogna allo stesso tempo борoci contro questi racisti. Il suo desiderio è di far capire a ciascuno che anche noi abbiamo avuto una vita tranquilla, vita in pace e questo pericolo che la guerra possa essere così improvvisamente può toccare tutti e perciò dobbiamo essere uniti per combattere, come ha detto lei, racisti, vuol dire quelli che portano la guerra. Cioè, magari qualcuno pensa che è una cosa fantastica la guerra atomica, oppure che lui vada sempre avanti, ma come dice lei giustamente che potrebbe essere veramente una realtà, come è successo con noi. Grazie, grazie per averci raccontato la tua storia. Allora, Enrico, andiamo di corsa a Kiev. Non riusciamo a collegarci in video, ma lo sentiamo solo in audio. Costantino Passalacqua, che è un eligure che vive proprio a Kiev e che non ha lasciato la città. Buonasera, Costantino. Qual è la situazione? Buonasera. Ma la situazione dipende da cosa si intende. Se si leggono i giornali europei, italiani, sembra che qua sia tutto calmo, che i russi si siano allontanati da Kiev, quando in realtà continuano a bombardare diversi quartieri della capitale. Funziona principalmente così. Quindi continuano a suonare gli allarmi, continuano a esserci i bombardamenti. Certo. E anche se, come lei diceva, leggiamo nei nostri giornali che le truppe si stanno allontanando da Kiev, ma sono evidentemente sempre presenti. Qual è la vita quotidiana di questi giorni lì a Kiev, da un punto di vista anche di provviste, di cibo? Guardi, io a questa domanda rispondo più o meno quattro volte al giorno a diverse interviste che io do tutti i giorni. La situazione dipende, a fasi alterne. A volte ci sono i prodotti alimentari, a volte no. Però mi lasci esprimere la mia opinione. Posso dirla? Prego. Guardi che qua siamo di fronte a un'aggressione e l'aggressore si chiama Russia e l'aggredito si chiama Ucraina. Io rimango stupito quando ci sono italiani che riniegano il diritto all'Ucraina di difendersi. Quando è una cosa che... Ma sarebbe possibile chiedere ai neri del Sudafrica di aver rinunciato ai loro diritti, di adeguarsi? Per non ottenere un trattamento civile come hanno adesso? E noi vogliamo chiedere questa cosa qua agli ucraini. Ma insomma, ma cosa sta succedendo in Italia? Eppure siamo sempre stata una popolazione molto orgogliosa. Abbiamo insegnato il diritto in tutta Europa. E adesso ci sono persone che non riescono a capire questa cosa qua. Gli ucraini hanno il diritto di difendersi. E noi europei abbiamo il dovere di aiutare questa gente che è stata aggredita. Chiedete a un ucraino cosa pensa di questa cosa qua. E vi risponderà esattamente quello che io vi sto dicendo. Ed è per questo, Costantino, che noi stasera stiamo raccogliendo, soprattutto anche lungo la trasmissione, le storie delle donne che sono arrivate qui in Liguria, in Italia, a Genova, per farci raccontare proprio da loro, così come diceva la nostra ospite poco fa, voglio che tutti capiscano che non è una cosa che è fantastica o che non è successa. Noi il giorno prima avevamo una vita normalissima e il giorno dopo ci siamo svegliati con le bombe. È una cosa tremenda. Grazie. Grazie a Costantino Passalacqua che anche la mattina ci aiuta sempre a tenerci aggiornati. Buona serata. Grazie. Un abbraccio a lei e alla sua famiglia. Grazie. Grazie. Enrico. Sì. Ma guarda, che dire, io le parole di Costantino le manderei al loop tutto il giorno. Noi dobbiamo anche pensare che ne veniamo da due anni di Covid. Il Covid, tra le tante disgrazie, ha avuto quella di aver sdoganato i negazionisti, i bastian contrario, coloro che non credono, i terapiatisti, coloro che vedono il complotto. E purtroppo ce ne siamo portati anche nella guerra in Ucraina. E' così semplice, è così banale, normale il ragionamento di Costantino che non capisco come non lo si possa condividere, non capisco come ancora adesso ci siano i negazionisti. Tu pensa, Tiziana, è difficile da tradurre per gli amici ucraini che sono in studio che abbiamo sdoganato il neneismo. Cioè meglio che niente, in Liguria si dice meglio che niente, abbiamo il neneismo, cioè né con l'Ucraina né con la Russia. Ma ci rendiamo conto di quanto siamo idioti? Ma ci rendiamo conto di quanto siamo in cretini? Ma ci rendiamo conto di quanto siamo rimbecilliti? Abbiamo persino il neneismo. Io non so se sia il caso di tradurlo agli amici ucraini. Non lo traduciamo per vergogna. Non lo traduciamo per vergogna. Enrico, noi preferiamo raccontare le storie, così come da nostra, diciamo così, tradizione, per cercare di arrivare veramente al cuore delle persone. Perché basta vedere negli occhi Elena, basta vedere Oksana, basta vedere insomma chi è scappato dalla guerra e quello che ha visto per capire che insomma non è fantascienza. Chiedo di nuovo aiuto a padre Vitali perché abbiamo un collegamento da Odessa di Katia che è fuggita da Mariupol. Buonasera Katia. Allora ci può raccontare Katia la sua storia? Noi abbiamo sentito parlare in questi giorni di Mariupol come città martire, una città completamente distrutta. Lei è riuscita a fuggire. Ci racconta la sua storia anche molto avventurosa, molto pericolosa per lasciare la città. Magari lasciamo frasi, diciamo, corte per dare modo a padre Vitali di Tradur. Ми хочемо почути історію від вас також, тому що зараз ви знаходитеся в Odessa, але ми знаємо, що ми були в Mariupolі. І Mariupol зараз для нас це є таке місто, яке зазнало дуже великого мучеництва, страждань. Розкажіть вашу історію. Дійсно, Mariupol, ще не зруйновано, і там, мені здається, не лишилося жодного вцілілого будинку. За офіційними даними, з майже півмільйонного міста залишилося лише чверть населення. І ці люди знаходяться у жахливих умовах, без газу, без світла, без продуктів, тому що ворог не дозволяє приїхати до міста навіть медикаментам. Adesso abbiamo la città bella, ma distrutta completamente. Non è rimasto nessun edificio che non è stato bombardato o distrutto. Abbiamo situazioni molto difficili anche per la popolazione, che è rimasta come un quarto, senza gas, senza luce, senza acqua, senza i provisti. In più, mancano anche le medicine. Immaginate un po' che la città circondata non riesce ad avere aiuti dall'esterno. Così siamo in una situazione molto grave, molto pericolosa. Questo tra l'altro è proprio uno dei video che ci ha mandato proprio Katia, quello che stiamo vedendo della sua città. Lei si trovava a Mariupol, si era trasferita da poco, e poi lì com'è arrivata la guerra? Vi були a Mariupoli, ma sappiamo che pericolo da adesso e non c'è da uno. Come vi è venuta da voi, da vostro domo? 24 люtого per avere una situazione del genere, perciò con la valigia che era pronta del pronto soccorso ha raggiunto il centro dei volontari e subito si è ammessa come un volontario per aiutare gli altri. E poi, dopo qualche giorno, anche lei ha capito che doveva lasciare Mariupoli in qualche modo, quando sono stati aperti dei corridoi umanitari. la sua fuga è stata una fuga molto pericolosa. Lei ha rischiato di morire. Abbiamo una foto che mostra una pallottola che ha colpito la sua automobile. E noi sappiamo, che через tueche giorni Per tre settimane è rimasta a Mariupoli, poi hanno capito che questa situazione sia grave, così dal centro dei volontari dove stava lei hanno deciso di creare questo corridoio umanitario e di far uscire le donne, i bambini e anche i maschi che non potevano partecipare a difendere la città. Il colpo che hanno ricevuto era partito da un checkpoint della cosiddetta Repubblica. La Repubblica di Donetsk che non è stata riconosciuta da tutti, allora il segnale di benvenuto hanno ricevuto da loro. Però sono riusciti, comunque nonostante un ferimento di una ragazzina che era a bordo della sua auto, poi ad arrivare se ne salvi anche ad Odessa. Таким чином, так розумію, що хтось був поранений в вашій машині і ви все ж таки змогли вирватися із цього жахливого місця і так змогли досягнути до Одеси доїхати? Так, у нашої офисці було поранено 11-річну дівчинку, вона отримала страшне поранення в обличчя і кілька днів знаходилася у надважкому стані, але зараз її значно краще, вона вже говорить. Але я думаю ці жахливі шрами на обличчя і всі життя будуть нагадувати її про російську агресію. Пurtroppo, devo tradurre anche questo, che è stata ferita una ragazzina di 11 anni e ha ricevuto questo trauma al volto e questo segnale, questa ferita, rimane a questa povera ragazzina per tutta la vita, come un segnale di questa aggressione russa. Senta, Katia, l'ultima domanda è questa. Mariupol è un po' un simbolo, no? Il simbolo della distruzione in tutto il mondo. Lei che è riuscita a scappare da Mariupol, sappiamo anche gli ultimi giornalisti sono scappati, quelli della Associated Press, che hanno proprio raccontato con le immagini che non è finzione, ma che è realtà, che quei corpi, quei cadaveri per strada, quelle case bombardate che ci ha mandato anche con i video, sono realtà. Che cosa si sente di dire, fuggendo proprio da Mariupol? Katia, scusate, ma anche se è un problema. Mentre, mi ricordo, mi ricordo, che Mariupol è un simbolo di totale di riuscito, di riuscito, di riuscito. E in questa tragedia, quando anche i giornalisti, i giornalisti di Associated Press, ви їхали і фактично через свої фотографії, через свої дописи, вони розповіли про всю цю трагедію, яка спіткала ваше місто. На завершення, що би ви хотіли сказати для нас всіх у цій трагічній сторінці історії вашого міста, для нас всіх? Я не хочу, аби Mariupol був для когось символом руйнування. Я хочу, щоб Mariupol став для нас усіх символом відродження, тому що Україна в сторіччям відстоювала свою незалежність і нам не звикати відроджувати свої міста. І Mariupol буде українським, Mariupol буде відроджена, але дуже важливо, щоб це місто стало прикладом і символом для всієї Європи. І вся Європа зрозуміла, що зараз Україна це єдиний живий щит між агресивним сходом і цивілізованою Європою. Треба про це пам'ятати і треба вкладати в Україну все, що можливо, аби цей щит в стоїв. Ecco, mi dispiace di dirlo, ma non vorrei che Mariupol sia un символ della distruzione. Vorrei che la mia città sia un символ del rinnovamento, della risurrezione. E vorrei anche far presente che adesso l'Ucraina fa da scudo tra un aggressore e l'Europa che sta vivendo in pace. Perciò dobbiamo tutti quanti essere indirizzati a difendere questo paese, perché il futuro dell'Ucraina che ormai da cento anni che stiamo combattendo per la nostra libertà e il futuro dipende non solo da noi, ma anche da tutti quanti che sono uniti attorno al paese che combatte per la pace di tutta l'Europa. Grazie, grazie mille Katia per averci raccontato la sua storia in collegamento con noi questa sera. Grazie a tutti, Katia, per averci raccontato il tempo di essere insieme con noi. Scusate, grazie per averci raccontato. La nostra ricronaca di questo mese, di queste settimane, è la guerra in Ucraina. E allora queste persone che noi accogliamo in casa nostra a braccia aperte, ma anche quelle che sono rimaste in Ucraina, per noi hanno e sono molto importanti nel sentirle parlare direttamente, anche se sarà un pochino difficile da casa magari tenere il filo del discorso. Allora Enrico, andiamo a sentire un'altra testimonianza, andiamo a sentire Oksana? Assolutamente, ma Tiziana perdonami, io ti sto seguendo, ci sto seguendo, noi anche come telespettatore, ma guarda che si segue benissimo, tu hai chiesto scusa per queste traduzioni che è necessario fare. Io ti dico, Tiziana, avanti così, se ti dico al telespettatore funziona tutto benissimo, perdonami se parlo di cose nostre a casa nostra e quindi però credimi che si segue tutto benissimo. Io ho ascoltato il coraggio di questa ragazza, volevo ancora dire una cosa Tiziana, non so se c'è già il collegamento con Oksana. Diti tanto Enrico, siamo già in ritardo, quindi non importa. Ma immaginavo, lo immaginavo. Oggi c'è stato un negoziato, un negoziato importante a Istanbul, l'ha voluto Erdogan. Intorno al tavolo lunghissimo del negoziato c'erano tutti, l'unica donna era una traduttrice. Allora, quando le donne si siederanno a questo tavolo, quando le donne si siederanno al tavolo della guerra o al tavolo del negoziato, le guerre non ci saranno più, perché una donna potrebbe forse mandare al fronte il proprio marito, ma non credo che manderà i propri figli. E continuo a dirlo, continuiamo a dircelo. Quindi la donna deve assurgere ad una dignità, ad un ruolo, per cui ora al tavolo del negoziato, domani al tavolo della guerra, che non ci sarà, perché le donne si devono elevare a questo tavolo. Ecco perché le testimonianze che hai trovato questa sera, questa ragazza Katia Meravigliosa, quelle che arriveranno adesso, devono farsi sentire, devono farsi sentire, perché sono loro che mandano i figli. Ma avete visto i ragazzi russi amputati, li chiamano poverini i veterani, ma veterani di che cosa, poverini? Che un anno fa andavano al cinema con le proprie gambe, andavano al cinema con la fidanzata sulla Piazza Rossa a darsi un bacio, se si può fare, con le proprie gambe. Ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto. E allora, quando avremo le donne anche a questi tavoli, io credo che forse non ci saranno più trasmissioni così, parleremo di altre cose, ma grazie a Dio non certo di guerra, ho finito per il momento. Speriamo che la pace arrivi il prima possibile. Regia, sono già fortemente in ritardo, cosa facciamo? Ci fermiamo? Allora, ci fermiamo e tra poco saremo ancora insieme, ascolteremo altre storie, altre testimonianze. Eccoci ancora insieme in questa serata di Tiziana e Cirona, anche se siamo divisi un po' a distanza. Cirona l'abbiamo messo in dad per ascoltare le voci, le storie, guardare i volti e gli occhi di chi è scappato dalla guerra, ma anche di chi ha deciso di rimanere. Buonasera a Oksana Panteliuk, che arriva a Genova da Sumi. Qual è la sua storia? Che cosa ha lasciato a casa? Buonasera cari italiani, mi chiamo Oksana, io ucrainca, io alicare. Sono ucraina e sono dottoressa in medicina. Do 24 люtого 2022 року я жила, життям, про які можна було meravigliate. В мене було житло, в мене був чоловік, в мене була собака, в мене була uлюblена робота. Fino a 24 io ho avuto una vita veramente meravigliosa, che si può solo sognare. Una casa, un marito, un cane, tutto quello che è necessario per la vita. Я жила в прекрасні країни, в центрі, в Європі. Ho vissuto in un paese molto bello, in centro dell'Europa. Як і всі ви, ми планували відpustку, hobby, походи в ресторани. Come tutti noi qui presenti, abbiamo anche avuto i progetti, come andare in ristorante, come avere un hobby, come vivere la vita. In un momento tutto è stato rovinato. Я запам'ятала цей час, 5.20 ранку. Ecco, ho ricordato molto bene 5 del mattino. 5.20 del mattino. Я збиралась на роботу. Infatti, в quel momento, lei si preparava per uscire al lavoro. І почула вибухи з боку Росії. Наш министр знаходиться на кордоні з Росією. Я почула вибухи зовсім поруч. Ha sentito il suono dei missili dalla parte della Russia, perché la città Sume si trova al confine proprio con la Russia. А потім почався жах. E poi è stata veramente una tragedia. Ми, це я, дві бабусі і дві собаки, ми переховувалися в підвалах. Нас bombardували. Ecco, noi, significa io, due nonne e anche un cande, dovevano scendere a sotterranei e coprirsi dai bombardamenti. Нас bombardували, обстрілювали ракетами, стріляли з кулеметів. Ecco, abbiamo ricevuto i bombardamenti molto forti e anche c'erano i missili che arrivavano e anche le mitragliatrici che sparavano. Le sirene non si fermavano. E poi, le sirene non si fermavano. Porуч з нами попали в будинок. Запах згарща і тіла обгорілі. Це було вбитно. Це поруч було з нами, з нашою будівлею. Rакета. Un missile è arrivato alla casa dei nostri vicini e noi abbiamo proprio sentito l'odore del bruciato, del bruciato della casa e anche dei corpi umani. По centralній вулиці Mogomіста їхали російські танки. Sulla via principale della mia città, allora attraversavano i carri armati dei russi. Boї точились вулицями Mogomіста. I combattimenti erano in tutta la città. Ми спали вдягнутими. Allora abbiamo dormito per tutte le notti coperti, vestiti. Sobaki знали, коли почнеться повітряна тривога. І самі бігли в це місце. Ecco, i nostri cani già hanno intuito, quando i missili arrivavano e così per primi andavano nei sotterranei. Ми лежали в повній темряві. Allora, siamo stati здraiati, proprio messi in pieno buio. Ми тримались за руки і мовчали. Ci siamo presi per mano, cercavamo di tenere il silenzio. Вже не плакали, ми молились. Ecco, ci mancavano le lacrimi, già. Solo è rimasta la preghiera. Ранок починався і зараз починається з SMS. Як ти? Тi живий? Це SMS моїм друзям. Двоє з них. Я так і не отримала відповіді. Adesso, tutte le mattine, comincia con un messaggio. «Come stai? Sei vivo?» Due dei nemici, dei amici, non rispondono più. «Моя собака померла». Ми з чоловіком поховали його під обстрілами. Ми ховали його і по нас стріляли. Hanno deciso di seppellire questo cane. Anche sotto i bombardamenti, cioè lei e il suo marito, hanno fatto questo ultimo segno di amore verso il cane. La resistenza della città verso gli occupanti era molto forte. I combattimenti erano molto-molto duri nella sua città. Ми добирались до Італії шість днів. Per raggiungere l'Italia ci sono voluti sei giorni. В моїй команді було дві бабусі і вже одна собака. Nel gruppo che ha guidato lei per raggiungere qui c'erano due nonni e un cane. «Залізничna spolucenia» повністю було порушено з моєго міста. Це Сумi, це схід України. Aeroporti всі розbombлені. Ми їхали по дуже розчавленій дорозі, яка була знищена російськими танками. Це була колись автомобільна дорога. Come sappiamo, gli aeroporti erano tutti distrutти, le linee ferroviarie pure, le strade, l'autostrade proprio dell'Ucraina appena fatte erano rovinate dai carri armati russi. Були трупи, обгорілі танки, розтрощені БТР і виворочена земля. Quello che hanno visto passando per queste strade, i cadaveri delle persone morte, i carri armati distrutti, tutta la tecnica militare distrutta. Мій чоловік залишився і зараз залишається в отточенному містис. Il suo marito è rimasto in città occupata dai russi. Se potete immaginare un pochettino che adesso stanno bombardando Genova. Вибачте за дуже жорстке і фантастичне порівняння. Vi chiedo scusa per questo paragone, che vorrei farlo. È molto fantastico. Для мене ще пару місяців тому це також було фантастикою. Anche per lei, qualche mese fa, era una pura fantasia. Cari italiani, росіяни щodенно вбивають українців, дітей, жінок, чоловіків. За що ми не можемо збагнути? Cari italiani, ogni giorno in Україна vengono uccisi i bambini, le donne, i maschi, i mariti, i uomini. Per quale motivo? Io non vi so rispondere. Perché? 143 дитини загинули на сьогодні. Fino ad oggi abbiamo già notato che 143 bambini sono stati uccisi. І це відбувається з вами однієї людини, однієї людини-monstra. Questo, come sappiamo, è per la colpa di una persona, di un mostro. Який 10 років вношував план знищення України. Che per 10 anni ha portato avanti questo piano della distruzione dell'Ucraina. Тільки України чи інших країни. Ecco la domanda. Solo di Ucraina oppure cominciando dall'Ucraina? Questo per adesso non sappiamo. Ці війні є тільки біли та чорни. In questa guerra c'è solo bianco e nero. la lotta tra il buio e la luce. E non ci sono mezzo i toni. Cari italiani, разом ми можемо зупинити цю potвору. insieme noi possiamo fermare questo monstro. Я хочу подякувати кожному з вас. Vorrei ringraziare a ciascuno di voi. Ми відчуваємо кожне ваше серце, кожну вашу молитву. Noi possiamo sentire ogni battito del vostro cuore, ogni preghiera che fate. Хочу подякувати italійській родині моєї сестри Rocco Papa Andrea за те, що так гостинно нас прихistив із такою любов'ю і опікою як і всі italійці. Vorrei ringraziare in prima persona al Rocco che è una famiglia italiana della sua sorella che sta aspettando la sua famiglia e anche ad altre famiglie. Grazie per il vostro sostegno. Noi sentiamo i vostri cuori. Grazie mille Italia. Slava України. Grazie. Un applauso per lei e per tutte le testimonianze che abbiamo sentito che sentiremo questa sera non c'è da aggiungere altro. Grazie. E andiamo a collegarci con la Slovacchia con Guido Longhitano che è partito da Rapallo qualche anno fa che adesso vive in Slovacchia. Le chiedo scusa se rispetto a quello diciamo che era il tempo prefissato insieme sarò più corta ma ci sentiremo sicuramente una mattina ma questa sera non posso non lasciare più spazio a chi è fuggito dalla guerra e chi ci sta raccontando la sua storia. Buonasera e grazie per essere intervenuto Longhitano. Buonasera grazie per avermi con voi è molto toccante la testimonianza è molto vera. Due minuti per spiegarci come in questo mese lì in Slovacchia vengano accolti i profughi che cosa si sta facendo poi ci sentiamo una mattina. Certo allora la Slovacchia si è mobilitata sia i cittadini che lo Stato Slovacchia è piccola sono meno del 10% degli abitanti dell'Italia dei 280.000 ucraini che sono transitati dalla Slovacchia 55.000 quindi l'1% della nostra popolazione ha chiesto di rimanere è stato creato lo status di rifugiato temporaneo per loro questo significa che loro possono accedere ai servizi sanitari agli ospedali possono accedere alle scuole possono accedere al lavoro durante questo status temporaneo solo Bratislava ha 12.000 persone che hanno chiesto di rimanere lì al momento non ci sono problemi per questo perché l'accoglienza c'è e stiamo dando alloggio e ovviamente anche viveri e assistenza grazie grazie a Guido Longhitano chiedo scusa per la brevità ci sentiamo una mattina anche per fare altri riferimenti ma mi faceva piacere insomma far vedere anche quello che si sta facendo nei paesi vicini grazie mille Guido Longhitano come se posso solo come rapallese dire una cosa fra pochi giorni ricordo il centenario del trattato di Rapallo tra la Russia di allora l'URSS e la Germania che ha ricomposto i rapporti diplomatici e commerciali il 16 aprile del 1922 ecco io mi auguro che questo sia un augurio anche per il futuro per questa guerra che questa sia la direzione del futuro di un accordo di pace e di ricomposizione e non di guerra grazie grazie mille speriamo tutti insomma che questo possa essere di buon auspicio andiamo di corsissima arriviamo alle misericordie perché perché intanto saluto Francesco Fracchiolla vicepresidente della federazione delle misericordie della Liguria è partita questa spedizione c'era anche Oleg con la consegna di un'ambulanza che adesso seguiremo passo passo diciamo nel racconto anche di padre Roman se riusciamo adesso a ottimizzare il collegamento ce la vuole raccontare intanto vediamo un po' le immagini sì buonasera grazie saluto tutti grazie a lei e a padre Vitali e a Oleg che in qualche maniera abbiamo vissuto e stiamo vivendo questi momenti sicuramente non facili anche sicuramente più facili di chi in questo momento in quello campo di guerra l'ambulanza nasce così è una cosa che non sono state un po' tutta una serie di cose che sono in qualche maniera venute nel giro di pochi giorni perché effettivamente noi abbiamo voluto donare l'ambulanza vado a parlare con padre Vitali e con Oleg noi abbiamo questa ambulanza però c'è un qualcosa di più dell'ambulanza con l'istituto comprensorio di Busalla si fa si fa quello che permette di dire una gara di chi porta più doni da riempire l'ambulanza e da lì sicuramente non pensavamo in tutto questo perché effettivamente giorno per giorno la cosa i ragazzi si sono messi al lavoro hanno sicuramente si sono adoperati hanno portato abbigliamento abbiamo chiesto di abbigliamento chiaramente nuovo ma anche sanificato quindi chiuso in buste e tutto quindi dando velocemente a un certo punto il materiale era tanta nello stesso tempo ci viene donato dalla ci viene chiesto dalla fondazione dalla fondazione Pallavicini dove ci dicono che abbiamo a disposizione questi due pullman e quindi abbiamo cercato di immaginare questa missione dove partiva da Genova con il pullman con carichi di aiuti e passare da Busalla e prendere l'ambulanza l'ambulanza dove riteniamo che è la cosa più preziosa penso in questo momento e quindi partiamo è partito questo viaggio è partito questo viaggio poi ce lo faremo raccontare anche dopo da chi c'era ma la interrompo perché abbiamo il collegamento con l'Ucraina con il padre Roman Ducciak Ducciak buonasera padre Roman buonasera buonasera allora a un certo punto voi vi siete incontrati alla frontiera praticamente e lei ha preso in consegna questa ambulanza abbiamo proprio il video e le immagini è così? sì è vero perché sto qua stavo lì abbiamo abbiamo preso questa ambulanza e già oggi già oggi questa ambulanza se ne è andato un posto un posto giusto specialmente ai militari ecco queste sono le immagini del momento del passaggio di consegne no padre Roman abbiamo visto il giubbottino delle misericordie anche che è stato consegnato e oggi abbiamo proprio anche le immagini di oggi che ha girato Oleg l'ambulanza è stata consegnata dov'è adesso in quale zona dell'Ucraina è questa ambulanza? adesso abbiamo abbiamo regalato da parte tutti tutti quelli che che hanno portato questa ambulanza specialmente dal misericordia italiana anche dal dal nostro metropolita si vede anche adesso ha benedetto ha fatto una benedizione di questa ambulanza l'abbiamo consegnata ai militari militari medici e adesso oggi domani già subito andranno ai posti non posso dire preciso quali ecco ma vanno si vanno a quei posti a quelli a quelli serve quelle ambulanze era tanto per far capire in quale zona dell'Ucraina questo sa padre Roman è molto importante per noi perché c'è tanta solidarietà ma credo che sia da una parte emozionante evidentemente per le misericordie per tutta Abusalla per tutta la scuola per tutti i ragazzi vedere che è arrivata veramente a destinazione e che è entrata subito in funzione la ringraziamo molto perché una cosa diciamo ho scritto a una persona che si occupava dei documenti ha detto che i militari quelli medici sono felicissimi di aver di ricevere l'ambulanza così diciamo così buona quelle ambulanze che che propriamente serve per oggi senta per salutarci qual è la situazione lì in questo momento dove è lei dove sto io adesso a dire la verità due ore fa è finita è finita la sirena per perché aveva una sirena grande dovevamo smettere la luce tutto ma adesso tutto tranquillo nella nostra zona ma negli altri zodi si può vedere dalle notizie come come distrutto propriamente il Mecolai per esempio una città dove abbiamo mandato tante cose tanto aiuto anche dall'Italia specialmente da quelli di Genova con Pandri Vitali quelli pacchi di aiuto sono andati a Mecolai e oggi dalle notizie abbiamo sentite abbiamo sentito brutte notizie che hanno distrutto quel appartamento per governo per governo nostro insomma per me io non posso capire perché come mai oggi a Stambu dicono per il pace parlano per il pace ma si vedono altre cose si vedono altre cose grazie grazie a padre Roman per questa testimonianza ci teniamo evidentemente in contatto anche qui sapere che molti aiuti che sono partiti da Genova sono arrivati a Mecolai proprio che un'altra delle città più bombardate insomma in quella resistenza è piuttosta diciamo così evidentemente significa che quegli aiuti che sono stati raccolti con il cuore veramente in così poco tempo sono però arrivati dove c'era bisogno grazie a padre Roman ringraziamo a tutti ringraziamo a tutti dicevo ai ragazzi quelli che sono che sono venuti in Polonia in questo tempo quando sono venuti era bombardato Kiev possono raccontare come era arrivavamo tutti spaventati davvero anche se da un tanto chilometri era un po' distante ma ho detto le cose che i ragazzi avete regalato il vostro tempo perché per esempio ognuno ha la sua famiglia ha tutte le cose che può fare a casa ma avete lasciato tutto per portare aiuto all'Ucraina e avete scritto molto bene sull'ambulanza non possiamo dare la pace ma possiamo dare il nostro cuore sì sì c'è scritto il pezzo del nostro cuore quindi abbiamo ricevuto quel regalo e speriamo che il pace viene per tutti e la guerra finisce speriamo speriamo padre Roman tra poco sentiremo proprio la testimonianza di Alberto Spiri le facciamo un applauso dallo studio padre Roman che è un applauso a tutti quelli che hanno partecipato e hanno lavorato da Busalla tutti insomma per questa missione grazie diamo il tempo alla nostra regia di Andrea Rochiccioli Niccolò Di Piero e Luciano Castagnola devo ringraziare perché stasera veramente con tutti questi collegamenti li ho messi un po' a dura prova però era secondo me molto importante sentire tutte queste testimonianze soprattutto far vedere anche i nostri telespettatori a casa a cui abbiamo chiesto aiutate portate quelle cose dove sono andate a finire allora tante delle cose che sono state raccolte qui a Genova e che sono state caricate con i primi tire i primi camion sono arrivati a Ternopil e allora andiamo a salutare un altro padre Roman si chiamano tutti padre Roman questa sera padre Roman Demush referente Caritas di Ternopil Ucraina buonasera buonasera a tutti allora un rapporto un po' speciale con Genova e la Liguria tanti dei tir dei camion che sono partiti da qui dalla nostra regione sono arrivati lì e lei con i video che manda a padre Vitali ci aiuta a darne conto anche ai nostri telespettatori intanto qual è la situazione lì appena buonasera a tutti appena qualche minuto fa si è finito il tempo anche ha suonato la sirena è finito il tempo di pericolo speriamo adesso che che la notte passa tranquilla no qui da noi nella parte più occidentale del nostro paese siamo un po' più tranquilli perché non arrivano ancora le bombe no anche se la gente è molto spaventata spaventata a causa della guerra che che così di improvviso è venuta nel nostro paese però non sono le bombe ma sono tanti rifugiati tante persone che sono scappate dai bombardamenti avendo perso tutto praticamente no avendo perso le proprie case tutto quello che avevano hanno scappato lasciando tutto la vita la loro vita è stata messa in un zaino praticamente no e noi qui al posto presso la nostra cattedrale con il nostro metropolita e poi con tanto aiuto di tutti quanti di tutto il mondo e in modo particolare anche dei fedeli ucraini e italiani dalla Liguria cerchiamo di accogliere cerchiamo di dare qualcosa perché queste persone possono essere sopravvivono perché oltre il pericolo della guerra c'è questo pericolo umanitario e prima di tutto ringraziamo anche per questi aiuti che continuamente ci arrivano dalla Liguria grazie Padre Roman quante sono più o meno le persone che stanno arrivando che sono arrivate in questo mese a Ternopil per far capire lei mi ha mandato anche dei video in questi giorni queste lunghissime file di persone per prendere delle patate per prendere qualcosa da mangiare poi vestiti cercare di dare un aiuto in qualche modo allora la situazione è quella che in questi 35 giorni di guerra per la nostra città sono passate circa 16 mila di persone no però adesso adesso nella nostra città di Ternopil si sono fermate circa 5 mila di persone che sono che abitano sia nelle città nei rifugi presso le scuole presso abitazioni delle persone presso le parocchie e altri che come lo fanno vedere adesso le immagini sono andati all'estero sappiamo anche che la Liguria ha già accolto un gruppo di persone dall'Ucraina allora i permanenti sono circa 5 mila persone e ne sono passate circa 16 mila in questi giorni anche perché nei conti abbiamo fatto qualche giorno fa e lo ripeto che non sono quelle persone ma anche già persone che sono rimaste qui da noi al posto come lo dire non possono svolgere il proprio lavoro non possono prendere il salario certe persone non hanno già da mangiare anche se non c'è ancora la crisi diciamo nel mercato ci sono alimentari però la gente non avendo lavorato normalmente tutto 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 il mese non ha il salario e cerchiamo come la chiesa con con la Caritas di 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 dare questi pacchi di alimentari del cibo di pacchetti di sanità no anche anche i vestiti perché dico che la gente che soprattutto è scappata dai bombardamenti certe persone sono scappate con una pigiama no e davvero sono le cose che piange il cuore non solo gli occhi piange il cuore non solo gli occhi sono quelle che stiamo cercando di raccontare in questo mese e più e in particolare in questa serata proprio con le storie grazie mille a padre roman ci teniamo in contatto grazie 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 a voi perché fate sentire la vostra voce di questo grido per la pace che così abbiamo bisogno di tutti grazie 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 mille padre roman enrico non mi sono evidentemente dimenticata però mi sono fatta prendere anche io un po' dall'emozione evidentemente delle storie dei nostri amici che ci stanno raccontando questa sera assolutamente scusami eh ma di che cosa intanto ti ringrazio per non avermi chiamato in causa subito dopo la testimonianza della dottoressa che è in studio perché ero commosso e non avrei saputo cosa dire quindi esatto quindi veramente ti ringrazio perché ho raggiunto un livello di commozione personale unica e non ho non avrei avuto parole le parole le hanno i nostri tre spettatori Tiziana perché subito dopo sono arrivati tanti messaggi te ne scelgo uno e poi siamo super ritardo quindi ritardo più ritardo meno anche in dad riesco a farti ritardare complimenti agli ospiti a quello che dicono l'unica cosa positiva della guerra pensa è averci dato modo di scoprire persone straordinarie quindi pensa se dobbiamo arrivare a questo e possiamo anche andare in regia a questo punto cosa dite a tra poco eccoci di corsissimo perché siamo in ritardo ma sono contenta che questa sera tanti abbiano accettato di raccontarsi e raccontare le proprie storie dei tanti ucraini che sono arrivati nella nostra città nella nostra regione c'è anche un gruppo che è arrivato grazie alla comunità di Sant'Egidio un gruppo di persone che hanno bisogno della dialisi e che sono riuscite ad arrivare nella nostra regione e allora saluto Anton Pilipenko residente a Kremenciuk spero di averlo pronunciato giusto buonasera e benvenuto ci aiuta Valentin nella traduzione se ci può raccontare la sua esperienza e quindi che cosa ha lasciato a casa e il vostro viaggio diciamo per la sua esperienza come viaggio come viaggio qui è arrivato io представляo gruppo di persone che sono di alizio di Kremianciuk Poltavica è un stadio di centrale di Ucraina a noi grazie non 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 sono attivate 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 e le persone dovrebbero sfruttarsi nella bomba ubicata. Loro sono dovuti venire qui a Genova perché non era più possibile curarsi, giusto? Perché siamo arrivati a Genova? Abbiamo preso questa scelta di venire in Italia a Genova sull'invito della comunità di Sant'Egidio che ci ha invitato proprio attraverso i vari medici, proprio perché lì dove abitavano in Ucraina molti ospedali non potevano più garantire l'acqua, l'energia e le cure. Per fare la dialisi, certo. Motivo per il quale, anche se Anton evidentemente è un uomo, è qui ed è potuto uscire dal paese. Certo. Insieme ad Anton è arrivata anche a Cercato, tante volte questa sera, di insegnarmi come si pronuncia correttamente e le chiedo scusa, tanto non ce la faccio. Svetlana. Così, più o meno, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, bene. Anche lei, intanto così le ho strappato un sorriso, anche lei è arrivata con il gruppo organizzato da Sant'Egidio. Ci racconta quali sono stati quegli ultimi giorni, insomma, che cosa ha lasciato lei a casa? Certo. che vi restavamo l'Ukraine, che vi restavamo l'Ukraine, per cui vi restavamo l'Ukraine? Z primo giorno, quando otteniamo la informazione, che si tratta di bombardare all'Ukraine, ci, come diceva Anton, non ci si tratta, ma prima domanda è la vita, perché le persone possono schovarsi in bombosco, ma non possiamo trattare 3-4 giorni. Неможливо. I primissimi giorni dei bombardamenti, anche se la loro città non è stata toccata dai bombardamenti, per fortuna, le persone, quando sono nelle sirene, possono sempre nascondersi nei bunker per salvarsi, ma loro, che fanno questa dialisi, questa terapia salvavita, non possono farlo. E quindi... ... 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